E' stata presentata a Palazzo San Giacomo la manifestazione Corritalia, che si terrà domenica 18 marzo a partire dalle 9.30 al Parco Troisi di San Giovanni a Teduccio in occasione del cinquantenario della fondazione dell'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Il programma prevede dalle 10 alle 14 esibizioni sportive acrobatiche, artisti di strada e una mostra fotografica itinerante. Nell'arco della mattinata si svolgerà il tradizionale appuntamento con Corritalia insieme per lo sport, gara podistica patrocinata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dedicata quest'anno all'invecchiamento attivo. L'iniziativa sarà arricchita con esibizioni di karate, danza, scherma, ginnastica artistica e artisti di strada e si concluderà con l'esibizione dei Tamburi della Pace, i cui protagonisti sono i ragazzi ospiti della Fondazione Famiglia di Maria, un centro semiresidenziale dell'area orientale di Napoli. È una manifestazione che festeggia un anniversario, 50 anni di attività di un'entità nazionale che ha diramazioni locali e che in questa occasione attraverso questa manifestazione Corritalia celebra appunto la sua forte identità legata sia allo sport che alla cultura. L'evento si svolgerà nel Parco Troisi di San Giovanni a Teduccio, un parco d'eccellenza se possiamo dirlo della città che è molto abitato dalle persone del quartiere e che lo tengono in maniera eccelsa e che sempre più come tanti altri parchi deve diventare luogo abitato dalle persone, dalla comunità sia per attività appunto di natura sportiva che culturale. Questa è l'occasione per ribadire un concetto di partecipazione a uno spazio pubblico che è dei cittadini.